Mi stai filmando? No ragazzi, questo è il delirio delle 4 del mattino C'è il sesto senso Riprendiamo il trucco di Giuliana Adatto alla stagione Adatto alla stagione Perché io sono molto meteoropatica Molto bene Stiamo andando praticamente ad un evento In cui vado semplicemente solo per scroccare la piastra Cioè la piega La messa in piega Bene, siamo all'evento Tony and Guy E il Cindy sta per farsi acconciare Sto un po' decidendo Cosa vuole Se riusciamo a vedere E niente, io assolutamente intrusa Sarà il mio vlog E poi via Con la mantella della morte Le manca la falce Eccola Ah sì? Bella rasata L'acconciatura L'acconciatura alla moira Sono stati abbandonati In miseria c'è Fabio E un'altra ragazza Prendere le parti di questo Pagliacciato E invece ci sono ricascato dentro Invece ci sono ricascato dentro Con tutte le scarpe Il video Sarà il video peggiore Con tutti i tamarri Le cose più Cioè ti ricordi E ritorna Perché poi? Questa, questa qua Beh in semplice Non so se qualcuna di voi Conosce Death Note Un cartone animato Fantastico Giapponese Comunque lei In questo stato È uguale a lui Si vede? Spera Un po' Avvicino Sì ma togli le dita dal microfono Idiota Dov'è il microfono? Ah no è sopra E si perché lui a differenza Di peli bianchi Lui ce li ha Di rinchi Boh 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 Non so se c'è le palle Lo metti Allora Un falso letto per uno Preparazione cari Ah lei Eh ho capito Scappa L'ho già fatto ieri Sbatti Uno Via Prendiamo le facce Sbattolo quella di Fabio Le vingastie Nel culo Non è che cos'è abbiamo vinto Insieme a un challenge Ragazzi Chi è schifo Ora al prossimo No riportiamo un attimino Che le due signore Peperocino piccante Ma no è vero Impossibile Quindi Ma re ci ha provato tutto il mondo Personalmente mi è normale Ci ha provato tutto il mondo E io e lui ce l'abbiamo fatta Perché? Perché siamo italiani Cazzo Mi favo per dirlo E poi vabbè Io cos'è che non mangio Inizierà così Il volto della sconfitta Vabbè buongiorno Siamo qua Siamo là Siamo su Siamo qui Siamo sempre nella solita fermata In cui l'attesa Varia dai 10 ai 20 minuti Ogni volta E lui come al solito canta E io voglio quelle scarpe Do you like my new shirt My new Do you like my new book Round and around And around And around We go Quasi quasi mi prende lo schizzo E me ne contro adesso Che mi sono un po' arrabbiato E poi chiariamo Il cinnamon challenge Chiediamo No aspetta No dopo Dopo Allora Cioè sono arrabbiato con Cindy Perché cioè Rega come avete scritto Voi appunto Nei commenti Antonio non è gelosa Non è gelosa Antonio non è geloso Non ci hai rimasto male Sì ci sono rimasto male Però raga Oh ci siamo lasciati In buoni rapporti Siamo rimasti amici Cioè Diciamo che È solo un'amicizia Non vogliamo più niente Cioè abbiamo provato A stare insieme Ma niente di niente Nato di nato Nato di nato Nato di nato Ma veramente No Antonio è troppo Poi occupa il bagno per ore Ma sì Cioè Veramente Vabbè Dicevo che le volevo Ciao Ah dagli altri Mi fa morire Ci è stato un rapimè Che brutto Ma non è che ti muore Catti ti muore Ha trovato le caramelle Ma no È un piccolo regalo Di ritorno Un piccolo regalo Aspetta Antonio Fammi vedere Fammi vedere Il piccolo regalo Le caramelle Golia Goliador Volevo dire che io Di questo pacco di Goliador Ne avrò mangiate due Ed è buono No è quasi finito No non è vero Che è così finito Scandaloso La gente che si ruba le caramelle Siamo qui No ma di le ore Sono le tre di mattina Sono le tre di mattina Non passano tram Quindi noi siamo Dopo tre ore di camminata Per tornare a casa A casa mia Che è veramente Bastanza distante Ce la stiamo facendo Allegramente a piedi Alle tre di mattina Perché Nessuno si è degnato Di accompagnarci A casa di Cindy Giustamente In cerca dell'avventura Into the wild Siamo ragazzi giovani Attivi Molto in grinta E quindi Col mio Anzi No col nostro Anzi col mio Bruttissimo senso Dall'orientamento Arriveremo a casa Forse Niente Tre e mezza E ci siamo fermati Alle macchinette A prendere qualcosa Da bere Da mangiare Così per sfamarsi Nei momenti In questo momento Infallibile Della nostra vita Insomma E lui si ferma pure Perché vuole Comprarsi un film Adesso Croccantelle Che sarebbero Che sarebbero dei cose Dal becco Andiamo guardami Quattro del mattino Così Sei meraviglioso? La vita è bella La vita è meravigliosa Buon appetito Fa cagare Tutto cosa Con i cammini Siamo ancora Nel nostro percorso Fa veramente schifo Mamma Riusci a fare Lo schizzino Anche in un momento Così Mamma io lo butto Fa veramente Comitare È la misera Prendi quello Quello qui Il pomodoro Il tono Mamma lo butto Fa comitare Passaggiare Cioè c'è il pesce Cavariato Che schifo Tanto però Se non ci muoviamo A casa Non ci arriveremo mai Cioè dico mai E poi mai Perché siamo ancora A mille miglia Di mille miglia Di milioni Di chilometri Da casa mia Niente Ci siamo fermati In un altro 24 ore shop Di cibo Perché qua Tanto il percorso È lungo Lui vuole Le croccantelle Come me Perché il fanino Faceva schifo E quindi L'hai trovate Le croccantelle? No Non ci sono Prendo le dixie Ma prendi Le patatine No? Le dixie Le dixie Quello che Che cazzo vuoi? Insomma anche le virtual Quelle mangiavamo noi Qua insomma Secondo me Queste cose Le hanno proprio creati Per i personaggi Come noi Che si perdono More Ci sono i taralli Però eh I taralli a 50 centesimi Ma molla Li Non mi prendo 9 Vabbè Come si farà mattina Finché arriviamo a casa Se poi ci fermiamo Ogni Sai che più avanti Vendono Le parrucche Non so Che ha marciato 50 centesimi Starei Oh ma Io e te Quando saremo Grandi Tipo che avremo 40-50 anni Ma questi momenti qua Ma come cavolo Cioè La cosa bella È che questi momenti qua Cioè Queste cose Non le fanno Prima Non ho pranzato Non c'è niente da parte E mi mangio queste Si è comprato 9 patatine Warning ragazzi Warning Non patatine romali Dixie Warning E queste qua Che sono buone Che mangiavamo noi Le superiore Le virtual Sono buonissime Le vertigo Tipo Sì Non sta cedendo La tentazione Di prendersi anche Una piadina Perché abbiamo trovato Un pan in arco Vi vediamo La luna Piena Bellissima No rega però Registrami che devo dire una cosa Rega però sinceramente Noi siamo malati Cioè Ci stiamo facendo Torri di camminata a piedi Il ponte E in più registriamo Quindi vuol dire Che siamo veramente malati Sì Siamo degli artisti Due teste di pazzarelli Siamo degli artisti Cioè dai Quanto così Uff Questo pezzo in salita Sul ponte È veramente difficile Oh però Siamo la metà ponte Dai andiamo Basta che stia attento Quello che calpessi Su Via Sembrano tipo Quelle troppi Quelle ragazze Appena uscite Dalla discoteca Che hanno male Piedibilità Guardati Mi stai filmando No ragazzi Questo è il delirio Delle 4 del mattino Io e lui non c'è neanche più La forza di parlare Tanto Perché siamo partiti Coraggiosi Oh son comedy Sto facendo una pipì addosca Devo fare la foto La pubblica Così la gente Quella si Faccio il tempo L'ho spento Cazzo Dai andiamo Antonio ha improvvisato Delle Delle ciabatte Mi dice che io Sembro una ragazza Normalissima Che sta andando Oh E dai Non arriveremo mai Non ci fai caso Sembra veramente Tipo le Nike Le Jordan Ma io sono un hipster Perché cammino Con un altro paio Di scarpe in mano E oltretutto Abbiamo anche scavalcato Il cancello Dai Siamo disumani Siamo assurdi Dopo due ore e mezza Di viaggio a piedi Siamo morti Buongiorno ragazzi 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 Oggi è sabato 27 aprile E adesso andiamo a svegliare Cindy So che non state vedendo niente ragazzi Ma Cindy mi ha detto Stanotte Appena ti svegli Fa registra Le 10 Le 10 Ciao Cindy Vedete com'è Tu le parli Voi le parlate E lei non vi risponderà mai Cindy Ti piace Milano Cindy Ciao Cindy Come sta sta la pianta Che fa Zumba Per asciugare lo smalto Per far asciugare lo smalto Che faccia sembri Perché ti metti così Perché ti metti così Sempre qui alla fermata Questa fermata la odio Siamo o alla fermata della metro O a casa sua Noi che siamo ricchi Noi che ci siamo fatti i soldi Abbiamo fatto i soldi qua Questi soldi Guarda Ciao Italia Una macchinina Appunto Neanche quella Chiusura di questi video Sempre in stazione Salutami Cioè salutaci Salutaci Mancano 10 minuti Oddio Oddio Anche questa volta È stata un'avventura Niente Mi è venuto a prendere Davide Stiamo andando In giro Davide Ma che cazzo Chi era accetto qua? Eh facciamo discorsi ovici Ma guarda Non discutiamo sul tema di prima Perché è meglio di no Quale? Ah Homofobia No 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 Vieni La videocamera Sono dei grandi Anche i cinesi C'hanno una cultura immensa Davide C'hanno un'educazione Che tu manco te la sogni Nemmeno me Da dove è nata la pasta? Senti Chi è creato la pasta? Chi è creato la pasta? Beh Devo fare queste domande alle tue fanno Chi è creato la pasta? Con l'hashtag Chi ha creato la pasta? No Creatore pasta Chi è che ha creato la pasta? Creatore pasta Eh Non devo schiacciare niente? No Già sta registrando? Eh allora che cazzo Debrava Capisci perché è più importante Allora lo capisci? Capisci perché è più importante Allora lo capisci? Grazie.